Bene amici TecnoAndroid, siamo qui, abbiamo davanti a noi iPhone 6S Plus, LG G5 appena uscito fresco di presentazione e Note 5. Ce ne abbiamo davanti perché? Perché LG è veramente fiera di questo nuovo sensore da 16 megapixel che pare essere velocissimo anche nella messa a fuoco. Infatti andiamo a fare una prova di scatto, vediamo la tempistica immediata su Note 5. Piuttosto veloce, onestamente sul G5 è leggermente più lento di Note 5, non so se è convenuto fare questa prova e poi c'è iPhone che comunque continua a mantenere i suoi tempi. Vediamo la qualità dello scatto, andiamo ad aprire, qui la rotazione è stata disattivata, ok perfetto, zoom massimo e zoom massimo, lo facciamo anche da questa parte. Lo zoom sul Note 5 è molto avanzato ma sgrana tantissimo, qui è un po' di meno ma i dettagli non sgranano assolutamente. E per quanto riguarda iPhone 6S Plus lo zoom è in medio e sgrana molto di più di LG G5. Bene amici TecnoAndroid, qui dall'evento LG Mobile World Congress 2016 è tutto.